Il lupo e le tre sorelle Una volta c'erano tre sorelle che stavano a servizio in un paese, lontano da casa. Un giorno arrivò la notizia che la loro mamma si era sentita male e voleva vicino almeno una figlia. Così la maggiore decise di andarla a trovare portandosi dietro un cesto pieno di cose buone. Appena uscita dal paese incontrò il lupo che le disse dove vai così di fretta? Vado da mamma mia che sta male e mi aspetta. E cosa porti nel cesto? Tordi allo spiedo e spaghetti col pesto. Dammeli con le buone o ti mangio in un boccone fece il lupo e la ragazza vuotò il cestino e tornò indietro di corsa. Che fifona disse la seconda sorella e decise di andare lei. Riempì una bisaccia di roba buona e si mise in cammino. Ma a metà strada ecco il lupo. Dove vai così di fretta? Vado da mamma mia che sta male e mi aspetta. E cosa c'è nella biraccia? Burro, sardine e una bella focaccia. Dammeli con le buone o ti mangio in un boccone. Anche la seconda sorella vuotò la bisaccia e tornò indietro tutta tremante. Adesso ci penso io, disse la terza sorella, che era la più piccola. E le altre due? figurati, proprio tu che sei alta un palmo e mezzo. Ma lei riempì una sporta di cose buone e si incamminò. Era quasi arrivata che il lupo sbuccò da un cespuglio. Dove vai così di fretta? Vado da mamma mia che sta male e mi aspetta. E che ho nella sporta? Vino bianco e un bel pezzo di torta. Dammeli con le buone o ti mangio in un boccone. Accomodati, disse la ragazza. Gli diede vino e torta e rimase lì a vedere cosa succedeva. Il lupo diede un bel morsa alla torta e cominciò a strillare perché la ragazza l'aveva imbottita di chiodi. Allora tirò giù un sorso di vino e fu peggio perché si bruciò la gola. Il fiasco era pieno di acqua e sapone. Contorcendosi per il mal di pancia, il lupo fece un salto indietro e scappò nel bosco gridando «Questa me la paghi!». E siccome conosceva tutte le scorciatoie segrete, arrivò per prima a casa della mamma malata e la inghiottì tutta intera. Poi si mise a letto nascondendosi sotto le lenzuola. Arrivò la sorella piccola e cominciò a disperarsi. «Mamma mia, come sei diventata nera e pelosa!» «È colpa di questa brutta malattia, figlia!» «E guarda come ti si è ingrossata la testa!» «E perché mi fa tanto male, figlia!» Piangendo, la ragazza la abbracciò forte e il lupo se la mangiò in un boccone. A pancia piena, decise di tornarsene nella tana e di fare un bel sonno. Ma appena uscì per strada, i contadini lo videro e gli corsero dietro con le zappe e i fucili. Pesante com'era, non riuscì a correre abbastanza svelto. Così lo presero, l'ammazzarono, gli aprirono la pancia. Ed ecco, madre e figlia, vive e vegete. La madre guarì e quando arrivarono le due sorelle maggiori, la più piccola disse «Vi siete perse tutto il divertimento!»